Tutti negativi gli indici di piazza affari e degli altri principali listini europei, colpite da vendite sparse Tra le migliori blue chip di piazza affari, Svetta Saipem che segna un importante progresso del 5,07%. Le peggiori performance si registrano su di Azorin, che ottiene meno 3,14% Invariato lo spread, che si posiziona a più 165 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,21% Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Spagna annunciati prezzi al consumo pari a 2,3%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 4,3%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei prezzi alla produzione, che della fiducia consumatori dell'Università del Michigan Grazie a tutti